Si è festeggiata anche a Battipaglia la giornata mondiale della gentilezza. All'istituto comprensivo Salvemini, diretto da Anna Maria Leone, è stato organizzato un flash mob alle ore 11, che ha previsto l'interruzione delle attività. In quel momento tutti coloro che si sono trovati all'interno della struttura hanno abbracciato il proprio compagno o chi si trovava vicino a loro e dirgli una frase o una parola gentile. Educare alla gentilezza, il principio e la base della giornata, significa educare rispetto per l'altro all'accoglienza di ogni diversità e significa proporre un'alternativa ad ogni forma di prepotenza.